Signori e signori, socie e soci, benvenuti per un altro appuntamento dei 140 anni del Davide in questa galleria. Come sapete la direzione ha avuto questa idea molto bella di avere degli incontri musicali e delle chiacchierate, delle conversazioni, delle conferenze. Purtroppo non avete Cecilia Holberg stasera, direttrice del Museo, a darvi il benvenuto. Ci sono io per voi che rappresento gli amici che sono tanti stasera e siamo felici di avere tante persone che sono della città o che vivono la città. La cosa bella per noi è di avere stasera Aldo Cazzullo che non ha bisogno di nessuna presentazione, come avremo Patti Smith dopo, come abbiamo avuto musicisti e come abbiamo avuto delle belle serate che continueranno dopo l'estate. Per noi è molto importante che il museo, come cittadini, sia aperto al pubblico gratuitamente. Si può entrare in un numero ridotto, si deve purtroppo portare la maschera quando si è seduti per gli eventi e vi prego di farlo, perché è obbligatorio ancora. Siamo grati che un'istituzione come questa sia finalmente più raggiungibile alla città, anche grazie agli amici che collaborano a questa cosa che si chiama Davide 140. La storia la sapete ormai e i minuti sono più preziosi per il dottor Cazzullo, cioè per noi di ascoltare il dottor Cazzullo che ringraziamo tanto e che siccome ama la città speriamo che lui possa scrivere cose buone perché la città non continui a peggiorare. Grazie molto e grazie a lei dottore. Grazie, grazie al Presidente, grazie alla direttrice, grazie alla mia amica Lea, grazie a tutto lo staff, tutte le persone che lavorano qui in Accademia e grazie a tutti quanti voi. Non è facile incontrare i fiorentini. Uno può venire a Firenze, stare in centro, girare la città, ma non è facile incontrare i fiorentini. Vi sono molto grato di essere venuti qui oggi. Io non sarei mai venuto a sentirmi con sto caldo. Al massimo verrò a sentire Patti Smith. Per me è veramente un grande onore, anche una grande emozione parlare sotto questa meraviglia. E quindi del David parlerò almeno possibile perché poi la storia del David la conoscete voi meglio di me, siete voi che dovete raccontarla a me e non viceversa. Posso cercare di dirvi che cosa prova un non fiorentino come me, io non ho l'onore di essere fiorentino, di essere toscano, quando va a vedere il David, quando viene a Firenze e che cosa rappresenta, a mio modo di vedere, Firenze per gli italiani e per l'identità nazionale. All'inizio del Cinquecento, se uno doveva mettere su una commissione di esperti per decidere sull'arte, a Firenze, poteva chiamare. Sono in dodici, non so se me ne ricordo tutte a memoria, comunque li ho scritti qua. Leonardo da Vinci, Botticelli, Perugino, Filippino Lippi, Lorenzo Di Credi, Cosimo Rosselli, Antonio del Pollaiolo, Andrea della Robbia, Antonio e Giuliano da Sangallo, non ce la farò mai arrivare da dodici, ma ci siamo quasi, abbiamo detto no. Insomma, alcuni tra i più grandi artisti che l'umanità abbia mai avuto, Andrea Sansovino, Ghirlandaio, Verrocchio era già morto, se no ci sarebbe stato anche lui, Donatello era già morto, se no ci sarebbe stato anche lui, alcuni tra i più grandi geni che l'umanità abbia mai avuto, si riuniscono e si consultano per prendere una decisione. Devono decidere dove mettere il Davide. E ovviamente litigano, sono pur sempre italiani, sono pur sempre toscani, quindi litigano. Botticelli dice, teniamolo qui dov'è, è difficile spostarlo, poi magari si rovina. È stato concepito per stare sui contraforti del Duomo, teniamolo qua vicino al Duomo. Voi sapete che Michelangelo, poco più che ventenne, si era chiuso per due anni quasi, in quello che oggi è il cortile del Museo dell'Opera del Duomo, un museo meraviglioso, aveva eretto uno steccato per poter lavorare indisturbato, finché nessuno vedesse quello che stava facendo. E questo recinto in cui Michelangelo si era rinchiuso, aveva contribuito a far crescere il fascino del suo lavoro e a creare quasi un'attesa messianica attorno al Davide. I fiorentini, che erano il popolo al mondo più attento, più sensibile all'arte, sapevano che stava nascendo un capolavoro. E sapevano che quel capolavoro parlava di loro, era la loro storia. De te fabula narratur, li riguardava, gli apparteneva perché raccontava l'idea stessa di Firenze. Donatello però disse, no, teniamolo qua, teniamolo vicino al Duomo. Altri dissero, no, però portiamolo invece al palazzo della Signoria, lo metteremo dentro il palazzo, nel cortile. Altri, mi sembra Antonio da Sangallo, disse, no, mettiamolo sotto la loggia della Signoria, sotto la loggia dell'Orcagna. Siccome è un marmo fragile, voi sapete che il blocco era considerato perduto, no? Era già stato quasi buttato via. C'è tutto un gioco di equilibrio tra le gambe per evitare che crolli. Allora, teniamolo, dice Antonio da Sangallo, sotto la loggia e così lo teniamo sicuro dalla pioggia, dalle intemperie. Perché Leonardo da Vinci fa un passo avanti e dice, no, perché sotto la loggia? Mettiamolo dietro, facciamo una nicchia e lo nascondiamo lì, così sarà il più al sicuro possibile. Da qui, la diceria, secondo cui, Leonardo da Vinci e Michelangelo Buonarroti si odiavano. È uscito un libro di recente che ne parla. Si racconta addirittura che una volta si fossero incontrati per strada e si fossero insultati, si fossero presi male parole. In realtà non è neanche provato che Leonardo e Michelangelo si siano mai incontrati. Erano di generazioni diverse, venivano da scuole diverse. E' vero che avevano avuto la stessa committenza, da Pier Sadorini, di affrescare le due battaglie, una di fronte all'altra, la battaglia di Anghiara e la battaglia di Cascina, nel Salone dei Cinquecento Palazzo Vecchio, ma non è certo che lavorassero davvero contemporaneamente. Nel ogni caso, purtroppo, i due affreschi, come è noto, non ci sono più. E' vero però che i due erano molto diversi, non soltanto dal punto di vista generazionale. E' probabile, come sapete, che entrambi fossero omosessuali o comunque bisessuali. Leonardo viveva la sua condizione con gioia. Michelangelo la viveva in modo più tormentato. Voi sapete che Leonardo aveva un carattere dolce, era affascinante, era un grande conversatore. Raccontano con la testa un po' tra le nuvole. Michelangelo era un uomo sanguigno, aveva il naso schiacciato per il pugno che aveva preso. Era un uomo tormentato. Leonardo era sempre elegante. Michelangelo non si cambiava quasi mai d'abito. E poi basta vedere come i due raffiguravano la natura umana. Il modo di pensare l'uomo e di raffigurarlo era molto diverso. Le forme di Leonardo sono soffuse, etere, levigate. Le forme di Michelangelo sono plastiche, massicce, muscolose, vibranti. Il Davide è molto diverso dal Davide del Verrocchio, di Desiderio di Settignano, di Donatello. Non soltanto come dimensioni, ma anche nell'aspetto. Fino a quel momento il Davide era stato raffigurato come un ragazzino che aveva già tagliato la testa a Golia, aveva la testa di Golia sotto il piede e in qualche modo era rilassato, era il Davide vincitore. Questo invece no. Il Davide Michelangelo è un uomo, grande, grosso, potente, virile e non ha ancora la testa di Golia sotto il piede. Non ha ancora vinto la battaglia. E' in attesa del nemico. E' fremente. sta per sferrare il colpo, sta per giocarsi il proprio destino. E quindi Leonardo da Vinci viene sconfessato, passa la linea di Filippino Lippi e il Davide Michelangelo viene messo accanto all'ingresso di Palazzo Vecchio, al posto di Giuditta e Oloferne di Donatello. Pensiamoci un attimo, siamo all'inizio del 1500. Giuditta e Oloferne è un'opera ovviamente di qualche decennio prima. Da lì a qualche decennio, per la precisione del 1544, verrà collocato sotto la loggia della Signoria, là dove, secondo Antonio da Sangallo, doveva andare il Davide Michelangelo, il Perseo di Benvenuto Cellini. Sono tre opere ovviamente molto diverse, per materiale, per stile, per epoca, ma i soggetti, i tre soggetti, hanno qualcosa in comune. Giuditta e Oloferne, una donna, taglia la testa al condottiero nemico. Davide e Golia, un pastore, uccide e taglia la testa a un gigante. Perseo e Medusa, Perseo, un uomo, seppure di origine semidivina, che uccide e taglia la testa a un mostro, Medusa, un mostro che Dante aveva collocato a guardia della città di Dite, dell'angolo più buio dell'inferno. È chiaro che nel momento in cui i fiorentini mettono in piazza della Signoria, davanti al loro palazzo comunale, queste tre statue, vogliono lanciare un messaggio politico. È un tempo, a cavallo tra il 400 e il 500, in cui nascono gli imperi, in cui nascono i grandi stati nazionali, in cui nasce la Francia, come la conosciamo adesso, l'Inghilterra, come la conosciamo adesso, la Spagna, come lo conosciamo adesso. Persino la Russia, iva del terribile, sale sul trono nel 1544, l'anno in cui i fiorentini collocano il Perseo sotto la loggia di piazza della Signoria. Il messaggio non potrebbe essere più chiaro. Attorno a noi nascono delle grandi potenze, Firenze resta relativamente piccola, ma combatterà per sempre, per la sua libertà e per la sua indipendenza. I fiorentini dicono, non ci arrenderemo mai, continueremo a combattere per la nostra libertà. E questo era sempre stato vero e sarebbe sempre stato vero. Era stato vero quando Pier Capponi aveva resistito le pretese di Carlo VIII, re di Francia. È stato vero da lì a pochi anni dopo il Davide, quando i fiorentini hanno sbarato le porte a Carlo V, venuto ad assediare la città e, come è noto, avevano giocato il calcio in costume in piazza Santa Croce e non si è mai capito bene chi tra le due squadre, tra i bianchi e i verdi, avesse vinto la partita. E questo è sempre stato vero sino ai giorni nostri e sino alla resistenza. Prima un signore è venuto a dirmi non è vero che Firenze è stata la prima città che è celebrata da sé. Prima c'erano state le quattro giornate di Napoli. Sono argomenti controversi. È sempre difficile stabilire quando una città si libera da sé e quanto invece è importante il fatto che sia alle porte l'esercito degli alleati, degli anglo-americani. Resta il fatto che sicuramente Firenze è stata una delle capitali dell'antifascismo e della resistenza italiana. E poco importa se prevaleva la fazione medicia o la fazione repubblicana. Negli anni in cui il Davide Michelangelo viene realizzato e viene innalzato davanti a Piazza della Signoria non c'erano i medici al governo, c'era la Repubblica. Infatti alcuni partigiani dei medici fecero un agguato alla statua, ci misero dei giorni per portare il Davide dal Duomo a Piazza della Signoria e i partigiani dei medici lo presero a sassate perché vedevano nel Davide il simbolo della Repubblica. E Michelangelo probabilmente simpatizzava per la Repubblica tant'è che come sapete al Bargello c'è in compiuto meraviglioso maestoso massiccio magnifico il busto Michelangelesco di Bruto il tirannicida l'assassino dell'imperatore il fondatore dell'impero di Giulio Cesare che probabilmente evoca l'assassino di Alessandro dei Medici ma questo accade qualche anno dopo ma non è tanto importante se Davide è davvero simbolo della Firenze Repubblicana o può anche essere fatto proprio della Firenze Medicia l'importante l'idea di libertà di difesa della libertà che c'è dietro il gesto di un pastore che uccide un gigante e di un giovane artista ventenne che scolpisce questa meraviglia con le pupille forate per dare l'idea che sta davvero guardando ci sta guardando è una statua che sembra quasi viva come i prigioni che sembrano svegliarsi dal loro sonno mortale per questo per me Firenze è la capitale morale degli italiani per questo un fiorentino non è mai un estraneo ovunque vada in Italia e nessun italiano è mai un estraneo quando viene a Firenze perché l'Italia ha questo di straordinario l'Italia non è nata da un campo di battaglia da un trattato diplomatico dalla diplomazia o da un matrimonio dinastico altre nazioni nobili antiche sono nate dalla politica dalla guerra dalla diplomazia la Francia è nata da una guerra una donna forte Giovanna d'Arco aiuta un re fragile a cacciare gli inglesi invasori e nasce la Francia l'Inghilterra è nata anzi prima la Spagna è nata da un matrimonio dinastico il re d'Aragona sposa la regina di Castiglia e nasce la Spagna l'Inghilterra invece è nata da un divorzio Enrico VIII si libera contemporaneamente dell'Italia scusate della moglie e del papa e nasce l'Inghilterra l'Italia no l'Italia è uno stato giovane ma quando l'Italia diventa uno stato nel 1861 in realtà l'Italia esisteva già da secoli perché non è una nazione politica l'Italia è una nazione culturale l'Italia era già nata secoli prima dalla cultura e dalla bellezza ed era nata qui in queste mura in questa città a Firenze qua fuori c'è il campanile di Giotto è un capolavoro di architettura è un campanile ma è anche un capolavoro di scultura perché è scolpito ed è un capolavoro di pittura perché è dipinto e agli uffizi il primo quadro che vedete è una madonna di Giotto assisa seduta su un trono che ha le stesse decorazioni del campanile segno che si facevano così anche i mobili l'Italia è sempre stata il software del mondo il luogo in cui il mondo veniva pensato e veniva pensata anche la maniera di raffigurarlo il luogo dove nascevano gli stili il gotico di Giotto il rinascimento il manierismo il barocco nel 600 veniva da tutto il mondo a Firenze per vedere il cappellone degli spagnoli capolavoro del barocco e poi il rococò il neoclassicismo il futurismo sino ai giorni nostri l'Italia comincia con gli affreschi di Giotto e con i versi di Dante voi sapete che io considero Dante l'inventore dell'Italia Dante ci è dato una lingua l'italiano se avesse scritto la Divina Commedia in latino avrebbe comunque scritto un grande libro ma sicuramente non saremmo qua a parlare di Dante Dante sceglie invece di scrivere il suo capolavoro nella lingua della sua città usando le parole che ascolta nei mercati di Firenze ed è una lingua viva ancora adesso ci sono tantissime espressioni coniate da Dante che noi usiamo ancora oggi stare fresco stare solo soletto cosa fatta capo A degno di nota senza infamia e senza lode non ragioniamo di loro ma guarda e passa avviso aperto il gran rifiuto volsi così colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare non esiste modo più letterario di dire a qualcuno fatti i fatti tuoi in purgatorio i golosi vengono messi a dieta scrive proprio dieta Dante parola orribile ma in purgatorio Dante conia anche un'altra parola antelucano prima della luce per indicare quel momento che arriva subito prima dell'alba quando il sole comincia a rischiarare il cielo è la prima volta nella storia che viene scritta la parola antelucano la usa Dante e Dante usa anche la parola mal amore l'amore sbagliato infatti io mi sono sempre chiesto ma perché Paolo e Francesca sono all'inferno cosa hanno fatto di male se amorca nulla amato amar perdona se l'amore non costringe nessuno che sia amato a non riamare a sua volta Dante invece nel purgatorio spiega perché dice né creatur né creatura mai fu senza amore l'uomo creato per amare così come le api fanno il miele e la cera senza bisogno che nessuno glielo insegni ma se la cera è sempre buona non sono sempre buoni i sigilli che nella cera vengono impressi ci sono anche dei sigilli falsi che fanno sembrare autentici dei documenti che non lo sono allo stesso modo l'amore non è sempre cosa buona e giusta c'è anche l'amore sbagliato a volte le donne si innamorano di uomini che non le meritano e non le valgono e si illudono di cambiarli io lo cambierò con me sarà diverso ma non cambiano mai se non in peggio e a volte anche noi uomini ci innamoriamo di donne sbagliate però Caina attende che a vita ci spense l'assassino di Paolo Francesca finisce nella Caina e anche l'altro grande personaggio femminile di Dante Piede di Tolomei Siena mi fe disfecemi Maremma sono nata a Siena sono morta in Maremma ma come è morta Piede di Tolomei nelle ultime due righe c'è la soluzione del giallo salsi colui che in anellata pria disposando Mavea con la sua gemma lo sa come sono morta l'uomo che mi aveva dato l'anello nuziale mio marito anche Piede di Tolomei proprio come Francesca da Rimini è stata assassinata dal marito geloso è stata vittima di quello che oggi definiremo un femminicidio e anche l'assassino di Piede di Tolomei come l'assassino di Paolo Francesca Gianciotto Malatesta finirà nella Caina dove sono puniti i traditori dei parenti Caina appunto è il posto più brutto di tutto l'inferno e in fondo all'inferno Dante non mette il fuoco il fuoco dell'amore divino scalda le anime in paradiso in fondo all'inferno c'è il ghiaccio simbolo dell'odio e della disperazione ed è lì secondo Dante che vanno a finire quelle che fanno del male alle donne lasciatemi aggiungere che secondo me è giusto che sia così perché la violenza contro le donne non è un problema delle donne soltanto è un problema di noi uomini siamo noi uomini che dobbiamo cambiare e fare cambiare i violenti quelli che non accettano un no o un basta un rifiuto o un abbandono quelli che non riconoscono la sacrosanta libertà della donna di uscire con chi vuole vestita come vuole di sposare chi vuole e di amare chi vuole siamo noi uomini che dobbiamo cambiare e fare cambiare quelli che ancora ragionano così ma è bene Dante non ci ha dato soltanto una lingua ci ha dato anche un'idea dell'Italia ci ha insegnato a pensare l'Italia per Dante l'Italia aveva conquistato il mondo due volte con la fede cristiana prima con l'impero romano poi con la fede cristiana e per Dante l'Italia aveva una missione conciliare la classicità e la cristianità e da questo incontro nasce l'umanesimo che ancora adesso il motivo per cui l'Italia è importante nel mondo perché ad esempio i militari italiani sono considerati i più bravi al mondo nelle missioni di pace non perché abbiano armi più potenti ma perché sono capaci di dialogo di rispetto di ascolto verso le popolazioni locali e questo accade perché sono portatori di quella grande cultura umanista e cristiana che comincia qui l'unione tra classicità e cristianità comincia a Firenze diceva Fernando Pessoa il grande poeta portoghese che Dante era stato il primo umanista in qualche modo l'Italia era già nata ed era nata qui a Firenze attraverso Dante l'idea dell'Italia passa fino ai giorni nostri attraverso i grandi della letteratura e dell'arte il primo a ritrarre Dante è o Giotto o più probabilmente Taddeo Gaddi il suo allievo a cui però Giotto prima di morire aveva descritto le fattezze del suo amico perché Dante e Giotto si conoscevano almeno così scrive il Vasari al Bargello c'è il ritratto di Dante fatto da Taddeo Gaddi seguendo le indicazioni di Giotto Raffaello ritrae Dante due volte nella stessa stanza in Vaticano tra i teologi e tra i poeti accanto a Omero e prima di morire a 37 anni nel 1520 giorno del Venerdì Santo Raffaello scrive una lettera al Papa Papa Medici Giovanni De Medici il figlio di Lorenzo il Magnifico e gli dice Santo Padre tu devi salvare le vestigia dell'antica Roma quel Colosseo l'arco di Tito quel poco che resta dell'antica gloria italiana non scrive romana Raffaello scrive italiana Michelangelo adorava Dante Michelangelo aveva un sogno scolpire la tomba di Dante Lighieri e quindi cercava di convincere i fiorentini e anche i papi Medici perché poi dopo Leone IX poi c'è Clemente VII il Papa del Sacco di Roma anche lui un Medici e Michelangelo insiste col Papa e con i fiorentini riprendetevi Dante Dante è nostro è vero che è morto e sepolto a Ravenna ma riprendiamocelo portiamolo a Firenze e i fiorentini cercano di recuperare il corpo di Dante ma i ravennati lo sapevano e l'avevano nascosto e i fiorentini come è noto trovano soltanto la falange di un dito solo che i ravennati avevano nascosto Dante talmente bene che poi non lo trovarono più e per secoli Dante non si sapeva esattamente dove fosse Michelangelo purtroppo morì senza poter scolpire la tomba di Dante pensate che meraviglia sarebbe stata la tomba di Dante scolpita nel Michelangelo i prigioni furono scolpiti per stare sulla tomba di Giulio II a Roma che è meno grande di quella che Giulio II sognava ma comunque il Mosè di San Pietro in vincoli resta comunque un'opera straordinaria fatto sta che soltanto nel 1865 l'Italia finalmente era stata unita e bisognava festeggiare i 600 anni della nascita di Dante che nasce a Firenze nel 1265 anche se non sappiamo esattamente in quale giorno sappiamo solo che era dei gemelli perché ce lo dice lui allora si trova facendo dei restauri nel quartiere dove c'era la tomba di Dante la chiesa di San Francesco Dante era molto legato ai francescani qua a Santa Croce andava sempre viene trovato un muratore trova una una cassetta con la scritta Dantis ossa l'apri venne ricomposto lo scheletro si vide che combaciava con il dito mancante erano veramente le ossa di Dante Alighieri e quando i tedeschi durante l'occupazione nazista cercarono di trafugare le ossa di Dante i ravennati ingannarono anche loro fecero loro trovare le ossa di qualche defunto sconosciuto che i tedeschi portarono in Germania come trofeo di guerra ma il vero Dante è sempre rimasto a Ravenna ma poi quando con il risorgimento rinasce l'idea d'Italia dove vengono i grandi italiani a cercare l'idea d'Italia vengono qui a Firenze Ugo Foscolo era nato a Dante ed era venefiano di cultura di lingua viene a Firenze e scrive come noto i sepolcri a Santa Croce e si commuove davanti alla tomba di Vittorio Alfieri che a Santa Croce è sepolto e scrive Ugo Foscolo e l'ossa fremono amor di patria Giacomo Leopardi scrive l'ode al monumento a Dante che si preparava in Firenze non il monumento che c'è fuori da Santa Croce il cenotafio che è dentro la basilica Alessandro Manzoni viene a sciacquare i panni in arno Ippolito Nievo prima di morire a 30 anni tornando dalla vittoriosa spedizione dei Mille era un garibaldino con la camicia rossa scrive le confessioni di un italiano che cominciano così io nacqui a Veneziano e morirò per grazia di Dio italiano quando l'Italia diventa finalmente uno stato una nazione dov'è che va a cercare il suo cuore la sua anima la sua cultura a Firenze il pittore del risorgimento Giovanni Fattori quello che dipinge tutte le battaglie è un fiorentino è un toscano nasce Livorno e muore Firenze in Toscana ci sono i macchiaioli in Toscana poi ci sono le grandi riviste all'inizio del novecento sono Toscani i papini Prezzolini Ardengo Soffici il primo a fare qua a Firenze al liceum nel 1910 la prima mostra degli impressionisti gli italiani non avevano mai visto gli impressionisti la prima mostra degli impressionisti in Italia si fa a Firenze la fa un toscano Ardengo Soffici Aldo Palazzeschi da giornalista lasciatemi citare almeno Curse Malaparte che all'estero è molto più letto di quanto non sia in Italia pesa ancora un po' la pregiudiziale antifascista prima anticomunista poi perché poi lui diventa comunista in realtà Malaparte è un grande scrittore ovviamente non si può non ricordare Indro Montanelli ma mi piace pensare anche ai grandi pittori toscani che vanno a Parigi a Medio Modigliani Livornese ormai i francesi lo considerano uno di loro lo chiamano Modì ma no è toscano e muore a 35 anni la nostra grande sfortuna nel novecento è stata che i nostri due potenziali Picasso i nostri due potenziali Kandinsky Modigliani e Boccioni muoiono 1 a 35 anni 1 a 33 anni e anche Boccioni viene qua a Firenze la giubbe rossa per fare baruffa con Soffici con Palazzeschi con Prezzolini e con gli altri e poi vanno a Firenze René Paresce Baccio Maria Bacci lo stesso Tozzi insomma grandi Severini Gare di Cortona anche lui toscano insomma alla fine la cultura dell'Italia Unita è una cultura che nasce e cresce a Firenze Dino Campana passa il manoscritto dei canti orfici a Prezzolini per una recensione e Prezzolini lo perde e Dino Campana nella sua follia riscrive a memoria i canti orfici forse non era folle era soltanto un uomo che soffriva che soffriva per amore infatti abbia questa fine terribile lui cercò di scappare dal manicomio si ferì cercando di scavalcare la cancellata il filo spinato e morì poi di setticemia lo so che i fiorentini non amano ricordare molto il periodo in cui Firenze fu la capitale d'Italia durò troppo poco Firenze in qualche modo fu usata di passaggio tra Torino e Roma poi io quando venivo qua a Firenze da ragazzo da Piemontese i fiorentini mi dicevano voi a Piemontese avete messo la famosa targa da secolare squallore al centro a vita nuova restituita ma quale secolare squallore Donatello Botticelli Lorenzo di Credis Cosimo Rosselli Andrea Sansovino effettivamente è così però è molto importante questa cosa alla fine dovendo cercare l'anima dell'Italia gli italiani l'hanno cercata a Firenze non soltanto la lingua non soltanto la letteratura non soltanto la pittura ma tutte queste cose insieme e anche l'idea di libertà e il primo a trovare in Dante l'idea dell'Italia è stato un altro grande poeta toscano Petrarca Petrarca però non amava Dante si vantava di non possedere neanche una copia della Divina Commedia e di non averla mai letta e c'è una lettera di Petrarca a Boccaccio altro grande toscano invece Boccaccio adorava Dante Boccaccio ha scritto la vita di Dante adesso Pupi Avati ha tratto un film dal libro di Boccaccio su Dante Boccaccio fu il primo a definire la commedia divina fu Boccaccio a inaugurare la tradizione delle letture di Dante in pubblico è arrivata fino ai giorni nostri grazie a Giorgio Albertazzi a Vittorio Gassman a Carmelo Bene a Roberto Benigni adesso anche a Piero Pelù con Pelù abbiamo fatto l'anno scorso lo spettacolo in piazza Santa Croce Pelù è stato bravissimo lui non soltanto leggeva Dante ma lui diventava i personaggi diventava Dante diventava Paolo Francesca diventava i diavoli poi i diavoli gli vengono abbastanza naturali bene c'è una lettera in cui Petrarca spiega Boccaccio perché non ama Dante e dice io non ho mai letto Dante perché se l'avessi letto avrei tentato di imitarlo e Dante è troppo grande per essere imitato ma se egli fosse vissuto il nostro tempo pochi avrebbe avuto più amici di me poi se volete la mia impressione io credo che Petrarca avesse non soltanto letto ma anche annotato Dante e mandato a memoria tant'è che quando scoppia la guerra tra Genova e Venezia Petrarca scrive una lettera ai due doji implorandoli di non farsi la guerra e scrive Petrarca Venezia e Genova sono i due occhi d'Italia uno guarda verso il Tirreno verso l'Occidente l'altro guarda verso l'Adriatico verso l'Egeo verso l'Oriente e l'Italia ha bisogno di entrambi gli occhi i due doji pensarono che Petrarca fosse impazzito cosa gliene frega questo Toscano che se no ci facciamo la guerra e quindi la guerra la fecero lo stesso eppure un seme era stato gettato l'idea dell'Italia era già nata grazie a due grandi poeti grazie a Dante e a Petrarca anche Machiavelli non amava Dante anzi scrive delle cose tremende Machiavelli contro Dante gli dà del tu a distanza di due secoli gli dice tu hai denigrato Firenze tu hai usato la parola merda tu hai usato la parola culo tu hai disonorato te stesso con il tuo linguaggio porco ma Dante voleva usare tutti i linguaggi l'alto e il basso il lirico e il comico il sublime e il grottesco perché voleva restituire tutte le sfaccettature dell'anima umana in realtà Machiavelli prende da Dante un'altra idea non quella dell'Italia ma quella del diavolo Machiavelli scrive come sapete Belfagor arcidiavolo in cui immagina che Belfagor salga dall'inferno con i demoni i suoi aiutanti per verificare se è vera la voce che ha sentito che le donne sono la rovina dei mariti si innamora si sposa con monna onesta ma dopo un po' trova insopportabili i suoi capricci e preferisce tornare all'inferno piuttosto che fare il marito ecco il diavolo può essere raffigurato in molti modi può essere seducente affascinante come Mephistofele o come il diavolo che sussurra all'orecchio dell'anticristo negli affreschi di Luca Signorelli a Uriveto oppure il diavolo può essere spaventoso terrificante orribile come il diavolo della saga cinematografica dell'esorcista o ancora il diavolo può essere buffo ridicolo grottesco come Belfagor arcidiavolo o come i diavoli di Dante i diavoli di Dante fanno ridere hanno nomi dalla commedia dell'arte trattevanti Alichino e Calcabrina cominciò Ellie malacoda a dire e tu Cagnazzo e Barbariccia guidi la decina Libicocco vengi oltre e Draghignazzo Ciriatto Sannuto e Graffiacane e Farfarello e Rubicante pazzo ecco i dodici membri della commissione li ho sbagliati i diavoli me li ricordo ebbene questi diavoli fanno ridere non fanno veramente paura Alichino ricorda Arlecchino Libicocco viene da Libeccio e Scirocco venti che portano tempesta Ciriatto viene da Ciro che in Toscano antico è il cinghiale quelli che adesso passeggiano indisturbati nelle vie della capitale d'Italia ebbene il diavolo di Dante come quello di Machiavelli fa sorridere più che paura il male è dentro di noi e Dante quando descrive l'Italia Dante è severissimo è durissimo con noi ama l'Italia ma è molto severo con l'Italia ai serva Italia di Dolore Ostello nave San Zanocchieri in gran tempesta non donna di province ma bordello Dante ce l'ha con tutti noi a cominciare ovviamente dai toscani dai fiorentini stessi dai toscani quando descrive la valle dell'Arno dice che l'Arno nasce in casentino tra i porci poi scorre tra botoli ringhiosi gli aretini poi tra lupi i fiorentini e tra le volpi i pisani con i pisani Dante ce l'ha a morte perché hanno fatto morire di fame il conte Ugolino e i suoi quattro figliuoli in realtà due figli e due nipoti e anche Dante aveva quattro figli Pietro Jacopo Giovanni e Antonia che si fece suore con il nome di Beatrice e anche Dante vide i suoi figli patire la fame e l'umiliazione durante l'esilio e quindi il conte Ugolino è uno dei personaggi di cui Dante si specchia e allora Dante maledice i pisani hai Pisa vituperio delle genti del bel paese là dove si suona è vero che Dante è il primo a usare la parola bel paese ma lo dice in senso sarcastico bel paese che l'Italia poiché i vicini compresi i fiorentini a te punir son lenti muovasi la capraia e la gorgona e facciansi e padarno in sulla foce si che li annieghi in te ogni persona cioè Dante auspica che si muovano le isole dell'arcipelago toscano la capraia e la gorgona per fare da digallarno affinché il fiume straripi come uno tsunami faccia negare tutti i pisani ma nello stesso canto maledice anche i genovesi che con i pisani avevano fatto la guerra la battaglia della Meloria con i pistoiese è terribile mette in scena questo personaggio schifoso Vanni Fucci ladro sacrilego che aveva rubato il tesoro e le reliquie del duomo di Pistoia e gli fa dire io piovvi di Toscana poco tempo è in questa gola fiera vita bestial mi piacque e non umana siccome a mulo che ho fui son Vanni Fucci bestia e Pistoia mi fu degna tana io credo che non si possa scrivere meglio di così poi ce l'ha con Siena ovviamente però tutto sommato con Siena ce l'ha fino a un certo punto si gente vana però per essere un fiorentino che era cresciuto dopo Monte Aperti è abbastanza così non tratta poi così male i senesi voi sapete che a Monte Aperti i senesi fecero stragi di fiorentini ma alla fine al tramonto Provenzano Salvani il comandante senese disse adesso basta non uccidiamo più i prigionieri teniamoli da parte così chiediamo il riscatto e facciamo un po' di soldi e allora i senesi dicono come anche i fiorentini i fiorentini dovete ammazzare tutti e poi però i fiorentini si presero la rivincita qualche anno dopo e vinsero a sconfissi ori senesi a Castelnuovo Valdelsa e Provenzano Salvani il comandante senese aveva un diavoletto in bottiglia che gli prevedeva il futuro e gli disse prima di Monte Aperti che la sua testa sarebbe stata la più alta sul campo di battaglia e parve che la vittoria di Monte Aperti di essere realizzata la profezia ma a Castelnuovo Valdelsa i fiorentini si presero la rivincita uccisero Provenzano Salvani gli tagliarono la testa la innalzarono su una picca per far vedere che il comandante nemico era morto e allora sì che la sua testa fu la più alta sul campo di battaglia poi però dopo Monte Aperti Farnate degli Uberti capo dei Ghibellini fu riusciti e salva Firenze la difende a viso aperto dagli altri capi Ghibellini che lo volevano radere al suolo e infatti Dante rende omaggio mentre il traditore di Monte Aperti Bocca degli Abati quello che aveva tagliato la mano del portastendardo di Firenze sapete la storia la cavalleria Fiorentina Ghibellini va all'attacco e Bocca degli Abati Fiorentino venduto al nemico taglia la mano del portastendardo lo stendardo cade nella polvere i fiorentini sbandano i senesi contraattaccano e vincono la battaglia e quando Dante trova Bocca degli Abati nell'inferno gli strappa i capelli per indurlo a confessare il suo nome e il suo tradimento ma quando incontra Farinata gli riconosce la sua grandezza perché ha salvato Firenze e Virgilio gli dice volgiti che fai vedi là Farinata che sei dritto dalla cintola in su tutto lo vedrai io aveva già il mio viso nel suo fitto e lei sergeva col petto e con la fronte come avesse l'inferno a grandi spitto vedi che l'altro giorno ho letto un'intervista di una mia collega a Gianluca Vacchi conoscete Gianluca Vacchi quello che fa i filmini su TikTok sui social che adesso è stato denunciato da una filippina che diceva lavoravo 20 ore al giorno e alla fine della giornata mi costringeva a vestirmi da cameriera filippina con la crestatuta per fare i balletti con lui ora adesso la magistratura deciderà ma la cosa che mi ha colpito è che Gianluca Vacchi raccontava su questi video dice sono video virali parole orribili virali che finisce e dice ma qual è il video che ha avuto più click più visualizzazione che è stato più visto ah ce n'è uno che ha avuto 205 milioni di click sono 205 milioni di persone che l'hanno visto e cosa c'è in questo video eh ci sono io che apro con il piede con una fotocellula il bagagliaio di una macchina ma poi si vede alla fine del video che in realtà è un mio assistente che lo apre allora io dopo di che sono andato a vedere quante visualizzazioni ha Lorenz Oliver che col teschio in mano recita Amleto di Shakespeare quello l'ha 205 milioni Lorenz Oliver ne ha 950 mila quindi uno su 200 poi sono andato a vedere quanti click ha Vittorio Gassman che legge Paolo Francesca e ha 65 mila click ora io penso onestamente che si possa dire che Vittorio Gassman che legge Paolo Francesca è più interessante di Gianluca Vacchi che apre o finge di aprire con il piede un bagagliaio aperto in realtà da un suo assistente spagato speriamo non in nero e perché allora 205 milioni perché noi che siamo qua davanti al Davide a parlare di libri di storie di quadri siamo dei resistenti siamo degli eroi siete dei resistenti siete degli eroi siete come i monaci irlandesi che nei secoli bui quelli dei barbari copiavano a mano i testi degli antichi per salvarli per tramandarli alle generazioni future o siete come come il Virgilio di Dante che cammina con la fiaccola dietro la schiena avanzando nel buio ma tenendo la fiaccola per le generazioni che avverranno dopo parlavamo di Firenze la Toscana l'Italia quando i diavoli i famosi diavoli di Dante tormentano i lucchesi perché secondo Dante i lucchesi erano tutti barattieri tutti corrotti invece i bolognesi li mette non so perché tra i ruffiani mentre invece i lucchesi sono tra i corrotti e allora questi diavoli tormentano i lucchesi e gridano qui non ha loco il santo volto crocefisso ligno a cui i lucchesi sono molto devoti qui si nuota altrimenti che nel serchio quando ho letto il serchio una divina commedia mi è venuta in mente una poesia di un altro grande poeta toscano Giuseppe Ungaretti che scrive i fiumi in cui racconta i fiumi della sua vita il Nilo sulle cui sponde lui è nato la Senna dove si è riconosciuto come poeta prima ancora il serchio sulle cui rive sono nati i suoi antenati e l'isonzo in cui lui da soldato si riconosce come italiano e come poeta Giuseppe Ungaretti amava l'Italia ma non c'era mai stato era nato ad Alessandria d'Egitto e poi era andato a Parigi quando scoppia la prima guerra mondiale parte a volontario ed è solo con l'uniforme addosso che si sente come nella culla di suo padre fa il corso ufficiale ma non lo supera viene giudicato inadatto al comando e farà tutta la grande guerra da soldato semplice lui che aveva già 30 anni ed era laureato accanto ai fanti diciottenni i ragazzi del 99 che lo adoravano lo chiamavano signore si facevano scrivere le lettere per le fidanzate e facevano gara a portargli in cambio lo zaino e il fucile lungo le marce e un giorno alla fine di una marcia faticosa Ungaretti si lasciò cadere a terra per riposare passò di lì un sottotenente che si chiamava Ettore Serra e Ungaretti non lo salutò per molto meno si poteva essere fucilati nei giorni di Caporetto un fante toscano Alessandro Ruffini fu fucilato perché aveva salutato un generale senza togliersi la pipa di bocca qualcuno dice un sigaro e dopo la guerra quel generale fece una brutta fine fu gettato da un treno in corsa da mani rimaste misteriose invece non soltanto Ungaretti per fortuna non fu fucilato ma Ettore Serra ebbe curiosità di lui gli chiese ma tu chi sei e Ungaretti rispose fiero io sono un poeta e l'altro si mise a ridere in tutto questo casino ci mancava solo il poeta che poesia scrivi e Ungaretti tira fuori un foglio dalla tasca lo passa al sottotenente che legge mi illumino d'immenso si sta come d'autunno sugli alberi le foglie verso copiato da Dante quando Dante mette in scena Caronte ed ecco verso noi venire per nave un vecchio bianco per antico pelo gridando guai a voi anime brave non isperate mai vederlo cielo i vegno per menarvi all'altra riva nelle tenebre eterne in caldo in gelo ebbene a un certo punto per dare l'idea di tutta la massa di anime che attendono di essere traghettate da Caronte Dante la paragona alle foglie che ci staccano dagli alberi d'autunno d'inverno e Ettore Serra si commuove leggendo questi versi dice ma tu sei veramente un poeta ha scritto altre poesie Ungaretti tira fuori dalle tasche dalle giberne delle poesie scritte a matita qualcuna scritta sulle scatole di munizioni e li affida a quest'uomo che non ha mai visto il quale si fa dare una licenza torna a casa li fa pubblicare e grazie a questa fortunata serie di coincidenze oggi noi possiamo leggere i versi di Giuseppe Ungaretti ispirati a quelli di Dante Lighieri questo per dirvi come l'idea di Italia passa attraverso i secoli e arriva fino ai giorni nostri voglio dirvi ancora due piccole storie perché mi hanno sempre molto colpito tutte le volte che vengo a Firenze ci penso allora c'è un momento l'Italia è stata liberata è finita la guerra civile nel 48 ci sono le elezioni vincolo i democristiani e vice segretario della democrazia cristiana è Giuseppe Dossetti il quale però a un certo punto è deluso lascia la politica decide di farsi frate e lui evitava erano dei toscani che vivevano insieme Dossetti era emiliano ma viveva con Fanfani con Lapira con i toscani a Roma poi Lapira era diventato sindaco di Firenze e allora Dossetti va dal suo migliore amico da Giorgio Lapira a dirgli che ha deciso di lasciare la politica Giorgio Lapira era il sindaco di Firenze migliore amico di Fanfani che nel frattempo era diventato presidente del consiglio cioè era uno degli uomini più ricchi d'Italia più ricchi no più potenti d'Italia Gianluca Vacchi vive in una villa di 1200 metri quadri con quattro campi da padel Giorgio Lapira abitava in convento abitava nel convento di San Marco dove Beato Angelico aveva affrescato gli angeli che poi Tabucchi definisce i volatili del Beato Angelico in un bellissimo libretto pubblicato da Sellerio e qualcuno dice che Lapira abitava proprio nella cella di Savonarola di sicuro abitava nello stesso convento in cui aveva abitato Savonarola e allora per dire il totale disprezzo per le cose materiali per le ricchezze gente che faceva politica per l'ideale per la passione e allora Dossetti va dalla Pira e lo accompagna un altro giovane fiorentino Ettore Bernabei di fatto il fondatore della RAI poi ItalStat tante cose uomo di fiducia di Fanfani vanno insieme dalla Dossetti e da Pira e dice ho deciso di lasciare la politica ma perché? perché mi sono convinto che non c'è niente da fare i russi i comunisti vinceranno la guerra fredda ma perché? ma perché ho saputo che sono andati quando i sovietici sono entrati a Berlino sono andati casa per casa a prendere i fisici che lavoravano al progetto dell'acqua pesante al progetto nucleare di Hitler e hanno scoperto anche un propellente che va a gas aereo non ad acqua che consentirà ai russi di sparare dei missili potentissimi quindi vinceranno la guerra fredda mancano pochi anni al volo di Gagarin in effetti i russi avevano questi Sputnik avevano questi razzi quindi Dossetti mistico che si ritira in convento va a trovare la Pira in convento ragionava di politica estera con informazioni da intelligence da spia insomma con nozione di caos e la Pira smonta questo ragionamento dicendo no Pippo lo chiamava Pippo Giuseppe Pippo no i comunisti non vinceranno ma perché? perché sono senza Dio questo per dire la grandezza la visionarietà di quest'uomo e l'ultima storia che vi voglio raccontare che secondo me in qualche modo chiude il cerchio che abbiamo aperto col David e con la Firenze che si batte per la libertà per l'indipendenza figure bellissime quelle della resistenza fiorentina basta solo citare Anna Maria Enrique Zagnoletti e la riventura di Radio Cora persone che muoiono sotto le torture Anna Maria Enrique Zagnoletti persone che muoiono sotto le torture io con i miei figli spesso guardiamo Masterchef avete presente Masterchef che sono la gara dei cuoc e vedo questi concorrenti che piangono con le lacrime se hanno sbagliato un contorno e Canavaciolo li rimprova questi piangono cioè questi gli uomini e le donne della resistenza si facevano un vanto non solo di non parlare ma di non piangere sotto le torture per non dare soddisfazione ai nazisti ecco una figura luminosa che non fece in tempo combattere la resistenza ma in qualche modo l'aveva già combattuta prima è quella di un grande fiorentino due grandi fiorentini Carlo e Nello Rosselli che non erano nate a Firenze ma era una famiglia fiorentina una famiglia toscana ebraica il nonno Pelleirino Rosselli era stato un mazziniano che aveva aiutato protetto e nascosto Giuseppe Mazzini che morì a Pisa a casa sua quando l'Italia era già uno stato ma Mazzini era ricercato era la titante era un esulo in patria allora Carlo e Nello Rosselli crescono a Firenze il fratello maggiore Aldo è morto nella prima guerra mondiale volontario cade in combattimento nel 1916 medaglia d'oro e valore militare loro crescono a Firenze sono antifascisti creano una rivista su cui collaborano Ernesto Rossi Gaetano Salvemini Piero Calamandrei che si chiama non a caso non mollare e nel 1926 che fu un anno terribile per gli antifascisti divisi sconfitti l'anno dopo l'anno in cui praticamente nasce la dittatura nel 1924 viene ucciso Matteotti nel 1925 Mussolini supera la crisi impone la dittatura nel 1926 quindi un anno durissimo per gli antifascisti che però riescono a mettere a segno un piccolo ma significativo successo che si deve essenzialmente a Carlo Rosselli che è la fuga di Turati Filippo Turati vecchio leader socialista riformista che Mussolini aveva sempre odiato Mussolini era un socialista massimalista rivoluzionario quindi era a sinistra di Turati poi diventa di destra ma in qualche modo continua a odiare Turati e Turati poverino aveva una vita impossibile altri nostri dimanganellati picchiati lo stesso Rosselli che insegnava all'università di Genova era stato aggredito dai fascisti abbastonati e Turati gli rendevano la vita impossibile lo pedinavano non poteva lavorare e quando muore Anna Kulishov con cui aveva passato 40 anni della sua vita al funerale il 29 dicembre 1925 il funerale viene attaccato dai fascisti quelli che seguono il ferro vengono picchiati i fascisti strappano i drappi neri e Turati riesce a salvarsi saltando su un taxi e scappando a quel punto Carlo Rosselli che era diventato molto amico di Turati gli dice tu non puoi restare qui in Italia devi scappare e allora creano una piccola organizzazione per fare scappare Turati il capo di questa organizzazione quello che ci mette i soldi è Carlo Rosselli lo aiutano Ferruccio Parri tre ferite di guerra tre medaglie d'argento valore militare futuro punto di riferimento della resistenza futuro presidente del consiglio riescono a fare scappare Turati dalla casa dalla casa sua dove è sorvegliato dalla polizia passano attraverso un pertugio attraverso i solai e riescono a uscire dal retro e poi vanno a Ivrea dove c'è un industriale antifascista Camillo Olivetti che ospita e nasconde Turati la polizia viene a saperlo scappano anche da lì e vanno a Torino a casa di un matematico ebreo Giuseppe Levi e in casa c'è questa bambina che si chiama Natalia che vede arrivare nella notte questo signore con la barba e Natalia è Natalia Levi che poi spoggerà a Leone Ginzburg altro martire dei nazifascisti e scriverà le seco familiari cui racconta anche accenna questa storia poi da Torino una macchina della notte dell'11 dicembre 1926 parte la guida Adriano Olivetti il figlio di Camillo e arrivano a Savona a Savona Rosselli e i suoi hanno un uomo di fiducia un avvocato che è già stato picchiato per tre volte dai fascisti una volta perché indossava una cravatta rossa una volta perché ha portato un fiore a una lapide a Giacomo Matteotti e un'altra volta così le hanno spezzato il braccio la manganellata l'avvocato si chiamava Sandro Pertini e Pertini aveva comprato con i soldi dei Rosselli un motoscafo aveva trovato due amici suoi due capitani di lungo corso disposti a guidarlo arrivano nella notte il mare in tempesta ma bisogna rischiare anche se Turati cade in acqua e spacciato morirà sicuramente ma partono nella notte e dodici ore dopo arrivano in Corsica arrivano Parri Pertini Rosselli e Turati in Corsica vengono arrestati si fanno riconoscere Turati era famoso anche all'estero allora li liberano e anzi il circolo repubblicano di Calvì dà un ricevimento in onore di Turati che poi va a Nizza e morirà a Parigi e potrà tornare in Italia soltanto da morto mentre Rosselli torna in Toscana con la marina di massa con il motoscafo viene arrestato e i giudici che non c'è rifiutano di mandare gli atti al tribunale speciale gli danno soltanto dieci mesi il minimo della pena lui ne ha già scontati otto quindi potrebbe quasi uscire ma Mussolini che fu ribondo per lo smacco che Turati si è riuscito a fuggire lo manda per tre anni al confino a Lipari lo stesso motoscafo lo va a prendere a Lipari lo scappa anche da Lipari insieme con Emilio Lussu l'autore di Un anno sull'altipiano insomma alla fine per far scappare Turati si mettono insieme alcuni tra le più nobili figure dell'Italia del tempo Parri Pretini Camillo e Adelano Olivetti e il capo di tutti loro è questo ragazzo giovane fiorentino Carlo Rosselli il quale poi va in Spagna a combattere contro Franco alla testa di una colonna di antifascisti e dice alla radio Barcellona la famosa frase oggi in Spagna domani in Italia poi siccome è malato va a curarsi in Francia lo raggiunge il fratello Nello a cui stranamente il regime ha concesso il passaporto ma è una trappola i fascisti seguono Nello Nello ritrova Carlo e poi ci sono questi Cagular questi miliziani di estrema destra francese che in cambio di una partita d'armi da mille fucili uccidono per conto del regime Carlo e Nello Rosselli li aspettano lungo la strada li fanno scendere dall'auto sparano con le pistole e Carlo muore subito Nello è agonizzante e lo finiscono tagliandogli la gola con un coltello poi dopo la guerra vengono sepolti al Perlachese a Parigi 150 mila democratici francesi italiani seguono il fertro e poi dopo la guerra Carlo e Nello Rosselli i loro corpi vengono traslati qui nel cimiterio di Trespiano sulla via bolognese a Firenze e riposano tutti insieme Carlo Rosselli Nello Rosselli Gaetano Salvemini Ernesto Rossi Piero Colamandrei tutta la redazione di Non Mollare c'è anche la tomba di Spartaco Lavagnini ucciso nel 21 dei fascisti e c'è questa lapida con questo epitaffio dettato da Piero Colamandrei per Carlo e Nello Rosselli che avevano fondato come sapete giustizia e libertà ed è una lapida molto asciutta molto essenziale giustizia e libertà per questo morirono per questo vivono essere disposti a vivere e se necessario a morire per la libertà questa è la lezione del Davide Michelangelo questa è la lezione di Firenze questo è il motivo per cui Firenze è, lo ripeto la patria morale degli italiani e quindi nessun fiorentino è estraneo in qualsiasi parte d'Italia nessun italiano è un estraneo a Firenze grazie grazie a tutti 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 una cosa delle più belle che sono state fatte in galleria veramente senza togliere nessuno altro ma grazie tanto perché è stato molto importante ricordare anche tutto questo e anche in un posto dove bene o male chi era diventato residente come Pietro Lepoldo ha eliminato per primo la pena di morte e tutto quello che lei ci ha detto è legato a tutto questo grazie 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 a tutti